Suonare, poi attendere che coi tempi loro vengano a rispondere di canati tubanti, mostrino l'umore quotidiano di cui si fanno portatori avanti un passo, mostrare di saperci fare, di aver compreso il mestiere salutare, spiegare, farsi glad trasformato in tempo aziendale, il portatore di buone nuove e chiedere permesso, entrare cercando una familiarità elementare delle affinità seconde o terze, la superficialità fa tarte, l'indifferenza stesa come polvere sulle parti di mobilio messe a vista, quindi attivandosi, pietire, affermare, spiegare, correggere il tiro da dietro un filtro azzurro, starci dietro quell'azzurro, provare a mantenere intatto il respiro, farne invece un affanno delicato, pronto a risalire incontrollato verso lo spessore delle lenti, così da opacizzare presto la visione, a rendere ogni domanda faticosa a fargli chiedere nella clausura dei pensieri cosa, che senso ha, se un senso possibilmente c'è finché il tempo va a finire, giuralo, fallo per me, fallo, allora finalmente chiude, prende la via della fuga, ma prima ringraziarlo, fa sempre lui, angelo perennemente scompensato dal suo incomprensibile uffizio.